Mitiche nei panni degli altri è un testo ideato da Samuele dove la scelta è quella di parlare di argomenti impegnativi come la parità di genere, come il rispetto delle diversità tramite una modalità un po' leggera e che quindi li aiuti a riflettere, sollevi questioni, pensieri, però con una modalità un po' frizzante che il musical sicuramente facilita. Il teatro tra i banchi di scuola per diffondere la cultura di genere. Alla scuola media Cesarpino sono infatti in programma una serie di laboratori che coinvolgono circa 220 giovani alunni e che utilizzano l'arte come strumento per trattare tematiche delicate come la violenza contro le donne e l'affermazione delle pari opportunità. Va dato merito a Pronto Donna perché poi è il soggetto capofila. Noi come noi delle scarpe diverse, come Libera Accademia non abbiamo fatto altro che mettere al servizio lo strumento teatro per cercare di veicolare proprio nelle giovani generazioni che sono appunto un investimento importante per il futuro. Quanto è importante a loro parlare di parità di genere ancora oggi? Beh tantissimo, devo dire che ci dimostrano e ci hanno dimostrato e ci stanno dimostrando anche per noi è un bellissimo laboratorio che in verità alcune problematiche che casomai fanno più parte di una generazione più adulta come la nostra sono diverse da quelle che invece casomai si trovano loro ad affrontare. Beh ad esempio molta più varietà come dire di realtà familiari, di storie personali e quindi questo porta anche a semplicemente delle difficoltà diverse da quelle che potevamo affrontare noi alla loro età. Un percorso propedeutico alla visione dello spettacolo mitiche nei panni degli altri in programma il 25 novembre che rientra all'interno del progetto Nuove Generazioni presentato dal Pronto Donna e finanziato dall'assessorato alle pari opportunità del comune di Arezzo. Quello che ci piace è che all'interno del gruppo dei nostri studenti sarà creato un sottogruppo di sentinelle attive attraverso la metodologia del peer tutoring e quindi avremo come dire degli studenti attenti ad affrontare le tematiche del cyberbullismo, bullismo e della parità di genere. Quello che ci piace però particolarmente è anche il fatto che questo progetto ha un monitoraggio per cui viene dato un test iniziale e un test finale per vedere quanto questo progetto ha influito appunto sugli stereotipi.